Dice mente ai tuoi comandi Maurizio Seimandi, scatto a precipizio sul decimo posto occupato dagli Ace of the Base e passo a nono di Tina Turner, nostra ospite di giornata e segnalo Vasco Rossi all'ottavo, Raf al settimo e Laura Pausini sesta. Telefono, che appendi al filo ogni speranza mia Io non avrei creduto mai di poter perdere la testa per te E all'improvviso sei fuggito via Lasciando il vuoto in questa vita mia Senza risposte ai miei perché Adesso cosa mi resta di te? Non c'è, non c'è il profumo della tua pelle Non c'è il respiro di te sul viso Non c'è la tua bocca di fragola Non c'è il dolce miele dei tuoi capelli Non c'è che il veleno di te sul cuore Non c'è via d'uscita per questo momento Un'altra a te Dove la trovo qui? Un'altra a te Sorprenda a me Un'altra a te 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 Quegli Sguardi sempre attenti agli spostamenti Quando d'alto spazio me ne uscivo un po' L'Europa degli U2 è quarto Al terzo posto c'è la Confilation Festival Bar 93 Al secondo arriva Fiorello E al suo posto ci aspetta Maurizio Seimaldi Buona Maurizio! Siamo arrivati alla fine ma è soltanto l'inizio dell'attesa per la prossima puntata Intanto mercoledì in edicola avete la possibilità, l'opportunità, la fortuna di incontrarvi con tv, sorrisi e canzoni Poi domenica siamo ancora qua Prima di scrivi ciao ciao vi dico che in vetta a Super Sorrisi di Teno 3 ci sono gli 8 8 3 Ciao Ciao